Noi apriremo durante l'estate, durante questo mese di luglio ed agosto, questo palazzo secolare, affinché tutti gli aritini possano venire a vedere questa straordinaria mostra che racconta la costruzione dell'elogio del Vasari, il più bel monumento della città di Arezzo. Dai primi documenti sulla genesi dell'elogio Vasari al celebre modellino in legno dell'opera commissionata dai rettori a Giorgio Vasari ed ancora altre preziose testimonianze sulla vita dell'artista, come ad esempio l'atto di battesimo. Nel palazzo di Fraternita in Piazza Grande, una mostra per raccontare il Vasari architetto. È stata un'occasione anche per riscoprire Vasari, che è stato nominato rettore della Fraternita dei Laici nel 1571, che erano proprio gli anni nei quali prendevano vita le logge. Ed è stato un viaggio particolarmente affascinante, quasi un diario di bordo, perché i documenti che noi abbiamo ci hanno permesso di vedere il cantiere quasi da vicino, cioè quindi capire il tipo di operazioni che venivano svolte all'interno dell'area che era stata prescelta già nel 1570 per edificare i materiali utilizzati, i costi, come si è operato. E questo è stato veramente un modo di riscoprire una storia che riguarda Arezzo, ma non solo Arezzo, ma riguarda Vasari architetto più in generale. Onorata e graziosa la loggia di Giorgio Vasari. E in più abbiamo queste bellissime foto di epigrafi, perché era un problema portarle qui in Fraternita, che sono conservate nel Museo archeologico di Arezzo e che abbiamo appunto proposto, perché erano state inserite fino alla metà del Settecento all'interno dei pilastri delle logge Vasari, per ricordare la storia e le memorie di Arezzo. Quindi diciamo che l'edificio non ha soltanto un valore urbanistico, ma anche un valore politico molto forte nel momento in cui Arezzo, in quegli anni, era dominata dai fiorentini. L'allestimento valorizza il vasto repertorio cartaceo della Fraternita, con particolare riguardo alla costruzione delle logge che nel XVI secolo costituirono per Arezzo un vero e proprio rinnovamento urbanistico. È stato un uomo rinascimentale, un genio rinascimentale, come tale ha espresso tutte le sue potenzialità nella pittura, appunto nell'architettura, nella scrittura, e oggi noi lo celebriamo. Questa è un altro gradino nella scala che ci porterà poi al pianerottolo dell'inaugurazione della mostra presso la Galleria d'Arte Contemporanea nell'ottobre, che sarà il sugello finale dell'anno vasariano, perché, come ho sempre detto, mi fa piacere ripeterlo, questo non è la mostra di Vasari, è l'anno di Vasari. Tutto l'anno per gli aretini è una ricorrenza continua e costante per ricordare questo grande aretino. La mostra sarà visitabile sino al 2 febbraio 2025 e tutti i giorni, dalle 10.30 alle 18.00. Tra l'altro la inauguriamo in un giorno particolare, perché oggi cade il 27 giugno del 1574, guarda caso è proprio il 450esimo anniversario. Quindi a maggior ragione abbiamo scelto insieme di comune accordo di farlo qui in Fraternita, perché come diceva il Rettore prima, qui è conservato per l'appunto il testamento di Vasari che dona poi tutti i suoi beni proprio alla Fraternita dei Laici.